buongiorno a tutti oggi facciamo le pulizie un po un po più ecologiche facciamo le pulizie con la cenere la cenere con la resciva della cenere vi faccio vedere come si fa la resciva come possiamo utilizzarla in quali metodi e niente per prima cosa si attacciamo la cenere a tutti i nostri amici ci metto un bicchiere di cenere e 5 bicchieri d'acqua il 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 Grazie a tutti. Faccio bollire per un'ora e mezzo. Reutilizzo la mia tovaglia vecchia per filtrare. La mia tovaglia vecchia per filtra. 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 L'olio di T3 è molto buono come disinfettante. La mia tovaglia vecchia per filtra. La mia tovaglia vecchia per filtra. Ci metto la riusciva dentro uno spruzzino. E' ottimo per pulire la stufa o il camino. E' ottimo per filtra. La mia tovaglia vecchia 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 per filtra. Grazie a tutti Grazie a tutti Con un po' di cenere ed acqua possiamo pulire tutto l'acciaio Grazie a tutti 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 Grazie a tutti